Mostra di pittura dei fratelli Cammarano nei locali dello spazio 180 di Sernia, una proposta di Gennaro Petrecca, autentico mecenate dell'arte isernina. Leonardo Cammarano è un uomo che è saggista, un uomo di una cultura filosofica profonda e di quadri sono interessanti proprio perché esprimono, soprattutto nella parte di Minna Cammarano, quelli che sono riferimenti ai poeti. Ci sono il ritratto di Edgar Allan Poe, abbiamo un ritratto di Verlaine, mentre invece la pittura di Leonardo Cammarano non risiede più nel suo aspetto filosofico interiore, c'è l'albero di Aristotele, c'è oltre la bellezza del quadro che è un fatto soggettivo perché poi è un figurativo classico, ma ho dato un senso, questa mostra ha un senso nell'insieme proprio perché è pregna di una cultura sottostante a quello che si vede espresso nei quadri. Per l'amministrazione comunale un altro evento da aggiungere al calendario del settembre isernino. Noi come ente non possiamo che ringraziare sia la persona di Gennaro Petrecca che l'associazione Le Cose è 180, nella persona di Donato Giannini soprattutto, che da anni si impegnano per arricchire culturalmente e artisticamente la città con mostre espositive, eventi di livello culturale veramente elevato ed interessante che contribuiscono esternamente a dare un contributo anche a noi come ente comunale. E infine Leonardo Cammarano, un ritorno nel suo amato Molise all'insegna dell'arte pittorica più rappresentativa. Il Molise è una terra che proprio adesso si sta sviluppando e quindi sono contento di aver potuto vederla nella sua verità in questi miei quadri. Un caro amico mio che si chiamava Domenico Rea e che tutti conoscono, li chiamava i quadri del silenzio perché sono quadri che parlano poco ma fanno pensare molto come il paesaggio.